buongiorno e benvenuti alla resegna stampa del mattino su fano tv canale 17 in tutta la regione marchi c'è l'occhiata ai giornali che daremo tra un istante con la selezione delle pagine dal resto del carino del coroio adriatico abbiamo scelto per voi per farvi uscire di casa informati già di prima mattina allora cominciamo dal santo intanto così se volete fare gli auguri potete fare gli auguri anche di buono romastico a qualcuno vediamo santa virginia oggi centurione braccelli il sole sorgerà alle 7 39 tramonterà le 16 e 33 ma prima di uscire bisogna capire anche se mettere l'impermeabile prendere l'ombrello oppure no andiamo a vedere le previsioni del tempo copertina di trebimetro.it prime deboli piogge nevicate in arrivo tra martedì e mercoledì ci sono in questo sito le zone interessate da questo primo peggioramento anche nella fine settimana sull'italia ci sarà qualche qualche precipitazione ma andiamo a vedere nel dettaglio per oggi il bollettino della protezione civile delle marche allora avremo cielo sereno poco nuvoloso quindi vedete non serve l'ombrello oggi per fortuna però attenzione al ghiaccio attenzione alle gelate anche quelle notturne che si vedono già di prima mattina anche nelle vallate e quindi attenzione sulle strade poi domani ecco il peggioramento il peggioramento con deboli diffuse precipitazioni anche a carattere di lovescio soprattutto localmente fenomeni in esaurimento nella mattenata però di domani limite delle nevicate attorno ai 2000 metri poi giovedì 17 invece nuvole belle grigie grigio intenso ma senza precipitazioni di sorta attenzione invece alle nebbie banchi di nebbie foschie locali nelle ore più fredde della giornata tempo stabile per venerdì e sabato allora andiamo adesso a leggere i giornali prima pagina del carlino di pesero la foto notizia per zavagnini chi è zavagnini la voce della vl la voce lo speaker salvato dai medici delle usca il mio ritorno alla vita c'è il racconto di come ha superato il covid casa rovella invece ipotesi trasferimento focolaio nella casa di riposo pochi infermieri per gestire l'emergenza gli anziani potrebbero però andare altrove l'omicidio suicidio di novilara l'autopsia così murad si è accanito sul corpo della ex moglie simona poi la classifica stilata che vede pesaro al diciottesimo posto la provincia anzi la provincia al diciottesimo posto e dunque si sale dalla dalle squillo invece anzi dalle prostitute senza mascherina sono stati multati quattro clienti andavano in altrettanti appartamenti nella zona mare di fano e sempre a fano ha il virus va al bar sanzione a lui e il locale è stato chiuso super superiori le elezioni in presenza al 50 per cento i presidi continuano a fare delle ipotesi ma siamo sempre appunto nel campo del forse chissà ma vedremo terme di caregnano invece questa è l'altra notizia importante per fanno le terme di caregnano sono state vendute a mezzo milione di euro secondo il resto del carlino ad un gruppo che gestisce le cliniche e poi addio all'imprenditore luciano donnini titolare della san german de press e poi il correa adriatico con la fotonotizia qualità della vita a pesero salto in avanti di 33 posti pesero nella top 20 il titolo d'apertura però dell'edizione pesarese per il commercio natale non funziona il viaggio tra i negozianti del centro storico i clienti dicono entrano poi fanno solo due parole vince chi si ricicla online crolla la moda maschile i grandi regali solo per particolari eventi sotto a centropagina violenza in famiglia gens nova presente come parte civile poi salva due donne e un bambino dalla furia del padre e giro di prostituzione affano a sassonia clienti in pausa pranzo sotto il cibo biologico è un'opportunità nella pandemia domani l'evento della cia che ha organizzato la giornata del biologico entriamo nelle pagine interne omicidio suicidio di novilara siamo sul resto del carlino annunciato lutto cittadino a collinas collinas è il paese d'origine di simona nel giorno delle esequie le autopsie confermano la volontà feroce di uccidere da parte del marito della donna la comunità sarda parla di vicinanza e affetto alla famiglia e in particolare le bambine da parte dei tanti sardi residenti a pesero e in provincia dunque la notizia è che andranno entro pochi giorni a vivere in sardegna le due figlie di queste di questi due dei genitori le due figlie di 7 13 anni che di simona porceddu uccise venerdì scorso novilara dal marito mentre la notizia per i fanesi sicuramente in primo piano è quella che riguarda la telenovela delle terme di carignano la telenovela che è andata avanti per decenni più di vent'anni termi di carignano che nel frattempo sono andate un po in malora sono state chiuse erano un fiore all'occhiello della nostra città lo torneranno ad essere non lo sappiamo lo vedremo intanto sono state vendute questa è la notizia più importante largo alla chirurgia estetica titola questa mattina il resto del carlino il complesso di carignano ceduto a poco meno di mezzo milione ad un gruppo che gestisce le cliniche ecco i progetti degli acquirenti parla maurizio gennari ha parlato con l'avvocato maurizio natali maceratese amministratore del gruppo romani che gestisce quattro cliniche private in regione di cui una a sasso corvaro e l'avvocato dice andremo avanti per step ed il primo sarà quello di riaprire il parco la città facendo questo per arrivare riattivare poi tutti i servizi e offrire appunto quelli essenziali vogliamo creare una struttura di grande attrattività ora chi c'è dietro natali che lo ripeto è l'amministratore del gruppo romani beh dietro ci sono dietro di lui come scrive gennari questa mattina ci sono una serie di azionisti del fermano dell'ascolano e di san benedetto del tronto questa dicevamo una lunga storia soprattutto quella che riguarda le aste che sono andate sempre deserte la prima risale al 2016 con un prezzo di partenza di oltre due milioni di euro poi alla fine insomma è andata come è andata addirittura e qui siamo sul Corriere Adriatico qui si parla invece di una cifra diversa rispetto a quella lanciata dal resto del carino si parla di quasi 800 mila euro quindi non poco meno di mezzo milione ma 800 mila euro chiaramente siamo nella fase in cui si parla a spizziche boccone quindi non sempre si hanno le notizie ufficiali o comunque complete e allora bisognerà attendere qualche qualche giorno come ha detto il sindaco ieri al nostro telefono durante il telegiornale poi questa cosa è pubblica l'asta e quindi i dati verranno resi noti intanto cordata di imprenditori si è aggiudicata ieri due lotti di Carignano il prezzo base dopo tre aste andate deserte comprende fabbricato e terreno ora si attende il rilancio tornando indietro sulla pagina invece del resto del carlino di Fano maxifesta in spiaggia organizzata senza permessi finiscono alla sbarra i gestori dello chalet del mar la sentenza attesa per il prossimo maggio ma intanto ieri si è svolta un'udienza a carico dell'amministratore dello chalet del mar dell'arzilla di Fano che è chiamato a rispondere di quelle feste insieme a gestori e soci che hanno organizzato in spiaggia tra il 27 e il 28 maggio del 2017 senza avere un'azienda di Fano che è chiamato a rispondere di quelle feste insieme a gestori e soci che hanno organizzato in spiaggia tra il 27 e il 28 maggio del 2017 senza aver l'autorizzazione mentre sul Corea Adriatico tornando sulla pagina di Fano ferrovia Fano Urbino scatta la petizione online forbici contro l'ipotesi dell'assessore Baldelli no a percorsi alternativi sesso a pagamento all'ora di pranzo escort esotiche sassonia a luci rosse due cinquantenni cinesi e altrettante sudamericane lavoravano in quattro appartamenti identificati numerosi clienti quattro frequentatori sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni anti covid mentre a San Lazzaro un sessantenne positivo al covid scoperto al bar l'uomo era in isolamento ed è stato trovato nel locale insieme ad altri anziani dall'esquillo dalla squillo anzi senza mascherina sono stati multati quattro sessantenni pizzicati dalla polizia mentre uscivano da alcune case a luci rossa e Sassonia espulsa una prostituta irregolare i clienti nell'ultimo periodo si erano scatenati temendo un nuovo lockdown poi ha il covid e va al bar sanzione a lui e il locale è stato chiuso il titolare dice non potevo sapere giustamente il blitz è venuto a San Lazzaro sabato pomeriggio ora devo solo aprire una piccola parentesi perché poi ieri sera quando abbiamo dato la notizia anche noi di questo blitz della polizia in questo bar di San Lazzaro noi genericamente abbiamo fatto vedere abbiamo mostrato delle immagini nel nostro telegiornale di un bar in particolare ma non era quel bar lì non è il bar interessato alla chiusura non è il bar interessato a quello che dà nella piazzetta del tanto per intenderci del centro commerciale non è quello il bar quello resta aperto quello è tranquillo quindi se volete andarvi a prendere un caffè potete andarlo a prendere senza problemi abbiamo mostrato quelle immagini perché sono immagini generiche quindi eccetera nel centro commerciale ci sono un paio di esercizi un paio di bar quindi ecco qualcuno ha chiamato allarmato i titolari siete aperti siete chiusi no quel bar lì che abbiamo mostrato ieri quello che dà nella piazzetta vicino al supermercato quel bar lì è aperto ed è un bar dove potete andare senza problemi forse andrò anch'io più tardi a prendermi un caffè allora grazie per allora andiamo avanti intanto Tiziana Petrelli però ha invece nel giornale di oggi sempre nella pagina di Fano ha intervistato ha sentito in qualche modo il titolare del bar dove invece questo anziano sabato pomeriggio è andato andato a prendersi un caffè e il barista dice racconta di come sono arrivate insomma i poliziotti hanno chiesto i documenti eccetera eccetera e lui cosa ha detto questo questo uomo ero stanco di stare solo a casa da novembre si è giustificato l'anziano il barista dice lo conosco da una vita ma nessuno di noi sapeva che fosse infetto e poi racconta anche altre cose sempre su questo articolo che troverete sul giornale di questa mattina aggredisce moglie suocera e bimbo bloccato da un agente penitenziario la guardia carceraria era fuori servizio ed è subito intervenuta picchiato finisce all'ospedale è una storia che è accaduta a Pesaro è stata salvata una madre un figlio e la suocera dall'ire del marito un gesto importante ma che gli è costato una costola rotta e 30 giorni di proniosi è successo nel tardo pomeriggio di sabato nella tranquilla via ferraris zona piazza redi a Pesaro dove l'attenzione di un agente della polizia penitenziaria libero da servizio è stato attratto dalle urla di questa persona era un uomo moldavo sulla trentina che stava sbraitando contro la moglie contro il figlio di pochi anni che era in braccio alla madre e anche contro la suocera lui poliziotto insomma non ci ha pensato due volte ed è andato subito a difendere queste persone ma insomma poi si è ha dovuto combattere ha avuto questa collutazione con quest'uomo moldavo dovuto per finire all'ospedale pian del bruscolo tasse il tesse il filo rosso a pian del bruscolo valle foglia domani si presenta il calendario di micro eventi online fino al 25 dicembre per bambini e famiglie promosso dagli operatori della cooperativa labirinto in collaborazione con l'unione dei comuni si parla ovviamente in questo articolo di manifestazioni natalizie però guardate questo cartello che trova spazio oggi sul giornale sul Corriere Adriatico è un annuncio comparso in una bacheca l'annuncio è cercasi finanzata part time per lockdown il volantino che fa parlare ovviamente che fa sorridere per qualcuno qualcun altro evidentemente la vedrà in modo diverso ma comunque il volantino che fa parlare è stato affisso in un in un bar che è frequentatissimo ad urbino dove ci sono avvisi di affittasi cedesi eccetera eccetera e tra questi avvisi c'è anche questo che cerca appunto una fidanzata part time qualcuno però scrive anche meglio trovarla full time senza chiusura totale credito all'impresa e risico bancario a urbino ecco i nuovi mostri senza testa né cuore varotti direttore della conf commercio dice comportamento eticamente scorretto contro le imprese sotto guinza gara d'appalto prima dell'estate la galleria dello scandalo la sottosegretaria morani anas dice procederà al progetto poi l'iter sarà veloce speriamo centro studi vitruviani a fano a palazzo nolfi le conferenze nell'ex sala delle udienze il presidente dino zachili dice due grazie alla fondazione carifano e al comune che ci ha dato questi nuovi spazi morto giannini l'amico di tonino guerra fra gli ideatori della mostra dell'antiquariato era il simbolo di pennabili e del monte feltro monte feltro che dunque è in lutto per la morte di gianfranco giannini 84 anni il più fedele amico del poeta tonino guerra e presi invece boni e claide in costume da bagno siamo sempre sulla pagina di farlo del carlino una coppia di ventenni milanesi si era data ai furti in spiaggia 28 addirittura i colpi contestati che vanno da rimini fino a macerata passando anche per fano fano marotta senigallia ne hanno combinate di tutti i colori questa coppia di coniugi tra cui anche a torrette di fano appunto e sassonia hanno messo a segno per ora insomma circa 28 furti e hanno rubato qualcosa come circa 30 mila euro di roba insomma poi prendevano anche le carte di credito prendevano i soldi e poi il resto buttavano via tipo carte d'identità le cose che non servivano le gettavano addio all'imprenditore luciano donnini invece sempre dalla pagina del carlino il titolare della saint germain aveva 82 anni ed era malato da tempo la sua azienda raggiunse il mercato mondiale andiamo a sant'angelo invado è morto ieri mattina vinto da questa malattia appunto luciano donnini 82 anni casa di moda vadese che raggiunse il suo apice alla fine del millennio scorso fondata nel 1970 e fu anche presidente della vadese negli anni d'oro credeva soprattutto nelle forze locali cioè nei giocatori del vivaio nei giocatori di di casa brucia il tetto a fossombrone di una casa in legno le fiamme sprigionate dalla canna fumaria danni ingenti ad una bifamiliare sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e adesso la questione del covid perché ci stiamo avvicinando a natale oggi il 15 di dicembre mancano dieci giorni alla natale e il governo sta ragionando in queste ore se andare in lockdown totale quindi rimettere l'italia in zona tutta rossa oppure oppure no coprifuoco però anticipato potrebbe essere anticipato alle ore 20 questo è almeno questa è la linea che si sta pensando anche con il confronto dopo il confronto con il comitato tecnico scientifico nuovo lockdown per bar negozi e ristoranti titolo del resto del carlino le misure allo studio di palazzo chigi assembramenti per lo shopping abbiamo visto le fotografie anche anche ieri insomma che lasciano un po a pensare poteri a prefetti e sindaci per chiudere strade piazze la rivolta delle categorie così rischiamo la bancarotta il ministro gualtieri se ci sarà ancora zona rossa previsti ulteriori ristori e questo è quello che fa un po arrabbiare i ristori sono ristori che per qualcuno sono insufficienti per altri sono semplicemente una caramella allo studio la chiusura dei centri commerciali del 24 di dicembre fino al 3 di gennaio esclusi ovviamente come sempre gli alimentari e le idicole lo chef vissani dice è una vergogna a natale capodanno tutti i ristoranti dovrebbero decidere di restare aperti quindi invita vissani alla sommossa popolare e a fregarsene e tenere tutto aperto almeno il giorno di natale ipotesi vaccinazione obbligatori invece e questi sono già argomenti ancora più delicati e più seri perché quando tu entri nella vita delle persone così con obbligando addirittura a fare un vaccino la questione diventa complessa diventa seria e si fa preoccupante misura di emergenza in caso di flop che cosa significa significa che chiaramente il vaccino anti covid in prima battuta sarà facoltativo nel senso su base volontaria uno lo vuole fare lo fa altrimenti no ma se poi dovesse risultare un flop cioè il numero delle persone degli italiani che si fanno vaccinare è troppo basso rispetto alle aspettative evidentemente del comitato tecnico scientifico allora a quel punto potrebbero pensare di renderlo obbligatorio di renderlo obbligatorio si lei ridice si valuterà tra un anno flick ex presidente della consulta vincolo legittimo sale il tasso di contagio il vice ministro della salute dice se avremo appena il 30 per cento degli italiani protetti a fine 2021 potremmo definire una qualche forma di obbligo che significa una qualche forma di obbligo vabbè san marino mette all'angolo in novax se si ammalano pagate pagano le cure e la proposta avanzata dal segretario di stato nella repubblica del titano il siero sarà gratuito rischio feste con il lockdown il governatore vuole chiarezza il governatore chiaramente quello delle marche acquaroli dice chiarezza i cambi continui esasperano ipotesi zona rossa oppure arancione confronto a roma tra i ministri e il cts preoccupano gli assembramenti e lo shopping gli esperti frenano acquaroli dice ero rimasto a qualche ora fa quando si pensava ad allentare invece le cose sono cambiate l'alternativa serrata nei giorni clou e per il prossimo fine settimana allora io credo che ci sia poco da aggiungere su questa cosa del lockdown degli assembramenti e quant'altro chiaramente tutto dipende da noi e come al solito siamo noi gli artefici in questo caso del nostro destino allora facciamoci un pensierino insomma se non è necessario andare in centro se non necessario andare a fare gli acquisti o fare la passeggiata stiamo a casa ed evitiamo così il lockdown difficile invece no difficile di fide ai dirigenti scolastici perché perché sono quelli ci sono genitori che si lamentano continuano la loro battaglia anche legale a questo punto contro le mascherine a scuola in classe per i bambini le mascherine obbligatorie per i più piccoli che continuano a suscitare grandi polemiche sono già 50 le diffide presentate nella nostra provincia il legale giampaoli raccoglie le denunce dei familiari contro i dispositivi di protezione quindi le mascherine l'utilizzo obbligatorio in classe anche per le alimentari sta suscitando dure reazioni poi ancora la cronaca chiama il 118 per un omicidio ma era falso aveva anche parlato di un ferito grave per raccoltellamento facendo accorrere elicottero e carabinieri questo 26 n di valle foglia ieri evidentemente non non c'aveva molto da fare si stava annoiando e così intorno alle 5 del pomeriggio ha chiamato con il suo cellulare il 118 di pesaro dicendo che c'era stato un omicidio e un grave ferimento a montecchio in via san michele così potete immaginare quello che è scattato tutta la mobilitazione generale con l'arrivo a prescindere dell'eliambulanza atterrata al campo sportivo riaperto per l'emergenza sappiate che ogni volta che l'eliambulanza si alza se non mi hanno informato male sono almeno 2000 euro di spese solo per farla alzare e partire sono migliaia di euro che se ne vanno quindi solo per quello ma comunque alla fine nulla di vero in tutto questo racconto e alla fine immagino che questa persona verrà denunciata addio all'architetto momo baldassari aveva 99 anni si è spento domenica professionista conosciuto apprezzatissimo per doti tecniche e morali alte era diventato architetto da adulto dopo molti anni di lavoro di geometra di pregio i suoi nonni baldassari avevano lavorato come mugnai alle dipendenze dei conti albani vediamo se c'è ecco ci sono altre informazioni no dunque andiamo sull'altro sull'altra ecco sempre dalla pagina del carlino anziano trovato morto in casa con taglio in testa ma le indagini escludono l'omicidio è stato probabilmente un malore un pensionato di 87 anni di travuglia che è stato rinvenuto senza vita l'altro ieri all'interno della sua abitazione la scena per i soccorritori appariva un po strana l'uomo era a terra morto con un taglio la testa e una scia di sangue lungo la casa come se si fosse trascinato verso l'esterno per cercare aiuto ma la ricostruzione dei fatti esclude appunto l'omicidio minori infetti quarantene tutti i casi che sono esclusi dallo screening di massa allora l'obiettivo per quanto riguarda i marchigiani lo ricordiamo ancora una volta qui torniamo a parlare di covid è quello di testare 820 mila marchigiani però attenzione perché ci sono in questo screening di massa in questi test che andranno si faranno dal 18 a partire da venerdì prossimo venerdì 18 con i capoluogo di provincia più la città di urbino ok poi si proseguirà con i comuni più piccoli però ci sono dei criteri di esclusione cioè chi sono quelli che non potranno fare che non potranno fare questi test serologici test veloci chi sono quelli che non possono farlo loro intanto uno persone che hanno sintomi da covid loro non potranno fare queste queste sottoporsi a questo test rapido due le persone in malattia per qualsiasi altro motivo tre persone in isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi 4 persone testate recentemente risultate positive 5 persone in quarantena o in isolamento fiduciario 6 persone che hanno già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare 7 persone che eseguono regolarmente i test per motivi professionali 8 minori tra 0 e 6 anni e 9 persone ricoverate nelle strutture sanitarie socio sanitarie comprese le case di riposo pubbliche private queste persone non potranno sottoporsi al test allo screening di massa una strage infinite di anziani invece l'altro titolo del Corriere Adriatico altre 14 vittime sono 1428 da marzo terapie intensive ancora sopra gli 80 ricoveri però possiamo dire che anche su questa storia delle terapie intensive se andiamo a fare il paragone con aprile marzo aprile insomma le terapie intensive erano il doppio ed erano numeri completamente diversi ora siamo lì 80 82 83 ma sempre lì nella rsa ci sono invece 280 positivi i piccoli comuni non si arrendono va sciolto il nodo degli spostamenti curti sindaco di force non significa abbassare la guardia però sui contagi violenze abusi in famiglia oggi la sentenza gens nova prima volta parte civile a pesaro dal matrimonio all'incubo per lei e il figlio come fasce deboli avranno il sostegno dell'associazione e poi un salto in avanti di 33 posizioni però siamo nell'italia impoverita indagine del sole 24 ore sulla qualità della vita la provincia di peso urbino è al terzo posto nelle marche e al diciottesimo nel paese cioè nell'italia il sindaco dice siamo migliorati ma queste classifiche sono fuorvianti il vice vimini dati dai dati nessun nuovo elemento rispetto insomma al passato andiamo adesso velocemente a vedere la pagina della val cesano ma qui c'è una pagina una notizia che riguarda fano la giornata del biologico in attesa di un distretto si tra domani all'agriturismo gentil rosso opportunità in tempo di pandemia mentre di taglio basso forum semproni tornano a splendere due mosaici presentata la riqualificazione venuta grazie ad un bando della regione marche ora che siete al governo liberate monte maggiore siamo in provincia di pesaro monte maggiore al metauro sos dei contrari alla fusione i consiglieri regionali di centrodestra che votarono no il referendum lo ricorderete con il 64 per cento prevalse il dissenso i cittadini ora chiedono di presentare una proposta di di legge e poi andiamo sulla pagina in senigallia missione rilanciare lo shopping una settimana di sosta gratuita vedete siamo anche leggendo un po sfogliando le pagine dei giornali da una parte se si critica l'assembramento lo shopping e quant'altro dall'altra invece si cerca di salvare il salvabile quindi di rilanciare lo shopping una settimana quindi uno dice da una parte si dà vabbè lasciamo stare una settimana di sosta gratuita andiamo avanti la proposta della giunta per attirare clienti in centro attirare clienti in centro dall'altra pagina poi giriamo pagina e si legge di come fare di dare potere ai perfetti di invece chiudere le piazze da una parte si attira si attirano clienti in centro dall'altra capite che insomma anche leggere i giornali così insomma uno non capisce più niente poi sempre dalla pagina di senigallia del resto del carlino cacciani sconfitto dal covid oggi l'addio all'imprenditore morto nell'ospedale cittadino per un peggioramento del suo stato di salute a causa del virus tanti ricordi poi controlli della polizia anche senigallia tante le multe mareggiate danni fondi per gli interventi la regione mette sul piatto quasi 12 milioni di euro ecco il natale di senigallia ma tutto sul web presentato il cartellone il sindaco livetti in un periodo importante per le famiglie non abbiamo voluto far mancare tante iniziative e sempre a senigallia lo spuntino costa caro a due ragazzi mangiano all'aperto però a tempo scaduto sorpresi in centro storico con il cibo da sporto verso le 18 per loro multa di 800 euro insomma non poco chiudiamo con le pagine di sport non c'ho tempo niente devo chiudere perché sono già le 7.29 grazie per averci seguito stasera c'è la rassegna stampa tra poco invece in diretta la Santa Messa arrivederci